In Francia, da mercoledì 21 luglio, l'ingresso in diversi luoghi pubblici e privati come bar, ristoranti, centri commerciali e musei sarà riservato alle persone che possiedono il certificato Covid-19 varato dall'Unione Europea. Dovranno quindi essere completamente vaccinate o risultare negative al virus tramite un tampone molecolare o antigenico. Anche per prenotare un viaggio a lunga distanza in treno sarà necessario esibire il Green Pass. Nell'arco delle 24 ore successive all'annuncio delle nuove restrizioni, in Francia quasi un milione di persone si è prenotato il vaccino. L'ipotesi di importare in Italia il modello francese accende il dibattito anche tra gli eurodeputati. L'obiettivo che abbiamo tutti è quello di riprendere a vivere nella pienezza delle nostre relazioni, delle nostre attività e contatti con la massima sicurezza per il bene nostro e degli altri. Quindi io penso che ogni misura che aiuti ad essere certi che possiamo fare degli incontri, dei contatti in sicurezza sia una buona misura. Se per andare al ristorante dobbiamo anche dimostrare che non facciamo correre i rischi agli altri e non ne corriamo noi io penso che è un prezzo che si possa pagare e accettarlo. Non dobbiamo strumentalizzare una crisi sanitaria per imporre restrizione della libertà individuale e per imporre un modello di società orrueliano alla popolazione italiana. Questo tipo di iniziativa viola il principio di non discriminazione che è presente all'interno dello stesso regolamento europeo del Green Pass voluto dalla Commissione europea che sancisce appunto il fatto che il Green Pass non deve costituire un obbligo vaccinale ma deve garantire la libertà appunto di circolazione dei cittadini.